Ecco delle grandiose manifestazioni londinesi al primo ministro britannico, incurante della pioggia la folla staziona dinanzi a Palazzo Beckingham e acclama l'arrivo di Sir Neville Chamberlain che è stato invitato con la gentile consorte per ricevere il personale ringraziamento del sovrano, la cui apparizione al balcone unitamente alla regina Elisabetta e agli ospiti provoca una vibrante manifestazione di popolo. Grazie a tutti!